Bene, allora, stacchendo appena è sfarente d'appo di nostra periodizzazione lideraria, fino a ora, abbiamo ragionato in termini classici di rompidura, quando si va in lideratura a una periodizzazione, si cerca sempre di questa idea di rompidura, di un fenomeno di l'antiguerdia, di uno che viene un po' a rimpiazzare i movili del passato, i movili considerati come trabassati, come arcaichi, eccetera, eccetera. Anche abbiamo visto un mantenimento, in questo caso qui, preciso, che non si trattava esattamente di una rompidura modernista, ma piuttosto di un livello culturale e liderario, tra virgolette di una rigessione, per dirla così, forse esagerando di noi un po', si era parlato, per i 70 e per i 90, di questo punto di rompidura, rompidura di i 70, rompidura di i 90, ogni ora il fenomeno, come dicevamo, di l'antiguerdia. P.O. 2000, che ho detto cronologicamente di oggi, parleremo stavolta mica di rompidura, ma di continuità e anche di approfondisciamento. Emo davere, di infatti, strategie di autonomizzazione lideraria, o di conquista dell'autonomia lideraria, che sono messi in ballo, aperte da i 90, con i 2000 s'amplivighi, diciamo. Allora, precisiamo di noi, che a 18, che è un segno di approfondisciamento dell'anno 2000, ci impegisce, cioè da impegisce, di sicuro, di avere un'ambizione piuttosto quantitativa, scusatemi, cercheremo piuttosto o demà, cercheremo di capire un po' i rendi movimenti di vondo e di vorma, che caratterizzano dunque stodie liderari ugor su questo periodo, che va da i 2000, si lamenta, dunque, all'attualità, a più rigente. Al di là di rompidura, di noi, e quella abbiamo detto all'occasione di la prima stonda, c'è di noi, per l'oggetto Lideratura e Espressione Gorsa, l'idea di una continuità, di un filo rosso, e sul filo rosso, dire l'idea di agostruzione, e di agostruzione, se vuoi dire, verso l'emancipazione o l'autonomizzazione lideraria. Allora, entriamo in dei particolari di un nostro oggetto. In lei, a cui avviene di un riacquisto e di un 90, a noi, la ferma un buntello privilegiato di l'autore di la generazione di un 2000, che è qualcosa che è un scambio amico, a noi, da, se vuoi dire, che c'è una crescita, assistiamo a una crescita esponenziale di un romanzo. Allora, un romanzo, die, per l'instituzione lideraria mondiale, da boi, a un certo tempo, in qualche secolo di già, un moello considerato un moello emblematico, un moello che riprisenta un mei, a modernità lideraria, che riprisenta un brisente liderario, e, durante un certo tempo, si è considerato che l'assenza, la mancanza di un romanzo in lideratura gorsa, in un paio di, anche quasi, di parlare di lideratura. Bon, dunque, purù c'è l'oggi un sviluppo di annuilla, avviene di l'anni 80 e durante l'anni 90, e dunque, c'è l'oggi una stituzione, un imbriono di stituzione, che si mette in ballo di maniera audonoma, in gira annuilla, il romanzo è lo si sviluppo, di ama veramente aperte si da u 2000. Dunque, sta mancanza guissibodi, die culmada, cua nuova generazione. Die così, che, per esempio, nasce il primo romanzo poliziero di lingua gorsa, Puru, Mezzu Barodigo, Sayonara, Usaludo e Amurte, 2002, e a Soseguida, Usangue di Abassione, 2007, di Diamaria Comidi. Inde Ello, Inde Comidi, come inde pareti altri scrittori di a nuova generazione, pare spica a volontà umanista di denunciare i uidzi lugali, corsi e anche umani, d'una certa maniera, e a tempo d'interroga se a non ta ubezo, e ubezo in negati, u di a draizione, che è di un elemento di rompidura, che è l'oggi era di Jaco 1, ma torna ghi sempli vighe, di aposto ghi, e ammudetto ghi, u du iemila, di un'amplificazione, di un'anta, che sarebbe un po' un'antigamara. Tenendo conto di enore realità sugiologica di l'isola mondo, e così che l'iso accusta di idemi di l'economia duristica, di l'affarismo, di la sottomissione clientelista, di la violenza, di un ridietto, di l'altro, di l'identitarismo, più che di l'identità, eccetera, eccetera. E temi gurulari, di noi, che spuntano, temi noi, come per esempio, la grueltà, di beto all'infirmità, penso a Anuilla, calzunetto, di gomiti, o di noi, l'umovobia, che è una riflessione, un po' gorsa. In Dea Noëlla, da Dareda o Burtello, come lo vege in Dea Zerva, Pasquale Ottavi mette a paleso la violenza di a gorsica traizionale, senza nisuna enfasi romantica, senza nisuna di nu nostalgia di Leda d'Oro, e senza l'irismo padriottico. Baladichi, per far un po' per riassume d'una maniera appena schematica, né romantismo, né mantenimento, né riacquisto, ma un sguardo nuovo. Una forma di trasgressione, posto che lo si drattava di trasgressione, una forma originale di è proposta da Dian Luigi Moracchini, quasi ragolta di nuvelle www.mazieri.gom 2004b per la nada, dove lo si inserisce via uvantastigo a vigura di umaziero in senua a razionalità muerna. dunque è un'opposizione di già palesa, non dà che è un titolo o mazieri.gom ed è quasi un titolo antididico. Fino ai conoscitori di uvanto magico-religioso isolano, Moracchini vede anzitutto in l'umaziero un oggetto leader. che in conseguenza si vede come rinnovato. In Dea Noella Vinale a Rì, il Val su Mazzero, che è infatti un doppio di l'audore, rivendica il piacere di scrivere e anche di riscrivere in questo caso qui ciò che fu fissato, Baladì e Grienze. Lontano proprio da ebrimura e idramandiera di un mantenimento o da quella di un riacquisto che condizionava l'atto di indienatura ha un rispetto stretto di adraizione arcaica, un rispetto quasi sagruzante di avere adraizione che non siamo più in Dea Dramandiera, non cerchiamo più, come lo vede il riacquisto, di un simbolo nazionale, ma cerchiamo al contrario di una creazione aperta da Ello, ciò che costituisce un punto di vista sfarente. Un altro tema che spunta, è un tema quasi tabù di asessualità che spunta sia di maniera crua, allora si pensi era facile, adesante o ancora di più biancarelli, sia che Dio ha costato come un'arnese di agridica suggiale. Allora, qualche esempio, che ha Dio rigacciato, ma ce ne dà, di sicuro, hanno la lettera di Dio Anotto a moglie adultare di Melio, che è un gredito a condizione di una donna a corsa, che è riottata da un gruppo suggiale, a solo la rispettabilità di a solo virtù. Qu'intenzione esimule, a noi la nivoli d'ottavi, spone il quotidiano grigio di una donna costretta a bende a solo persona, per mantiene a solo famiglia. Al di là di agridica, piuttosto in a dura e con uglastica, certi come comidi, ne vanno un tema qualunque. Si pensi era, torna come esempi, ma arribedo, se ne sai, a Enuele ha valigia, si gredi e ha visita, a ragolta di Cis, mi si pare, ma si sostate pubblicate e i brima in debonano, che di per avonta, che trattano rispettivamente di l'infedeltà, per a brima, a o'alija, di abrustituzione gioanile, per a seconda, si gredi, e di u libertinaggio, mamma fiola, per a derza, baladi a visita, e so finalmente tre testi, che pare, no mo si da finalmente, ubiege, ubiege di ride, e ubiege d'accustate, che mi ghi di regola, so più o meno, censuradia, una maniera di vulgarizzare, definitivamente, a questione. Pec ridica, e infatti avviene, distrudie, ogni mido, se si dedia, fondamentalmente, tra dinuncia, espligida, e autoderisione. Pilastro di a seconda categoria, quella di l'autoderisione, dunque, desanti, che avevamo, già ammintato, attraversa un'anta, torna a utilizzare, a risa, l'antirealismo, e l'assurdo, come bettori, privilegiati, di esogridiche. Allora, torna qui, ad un rigacciato, di maniera soggettiva, assai, qualche testo, qualche esempio, da illustrare, un po' tutta questa dimensione, igonoglastica, di l'autore, in dell'assurdo, a rivolta, di un spermadozoido, desanti, si ride, di un spirito, di rivolta, detto all'uso gorsu, attraversa, o discorso, di un spermadozoido, rivillo, che fiasca, a convincere, e isobarri, di rigusare, o suicidio, di massa, di avegondazione, dunque, un tema, abbastanza, particolare. In punta, di a lingua, un'altra, nuvila, di, di desanti, mette in scena, un uomo, scoragido, in cabagia, di vasbuta, a barola, intesa, mille orte. Stanco, di strasià, l'uomo, decide, finalmente, di scioglie, o problema, taglendosi, a lingua. Dunque, un ragionamento, pella surdo. Custi, se lo si cerca, di dare un senso, a, a storientazione, si può pensare, che l'audore, mette in guardia, contra o pericolo, dell'identità, l'identità, attenti, quando la è sinonima, per l'uomo, di grisa esistenziale, di grisa permanente, e che la noge, finalmente, ha uso spannamento. Un altro esempio, forse, co di più, igu, nouglasti, cadiurigacciato, hanno è la fenomenologia, di accioda, che dì, appunto, una ridicolizzazione, tra l'uogente, di l'essentialismo, identitario, allora, l'essentialismo, dì, a volontà, di devinì, l'essenza, o lisse, per esempio, di un pobo, si ben serà, fagioli, intorno all'essenza, di rinadugoti, per riacquisto, e di regola, con un scopo, più o meno, ludadivo, in deo caso, di stano e lagosti, uscenti, vigo, piuttosto, aziezzo, per dire lagosti, un cilavage, mica, a devinì, di un stappunto, l'essenza di, agibola, posto, che dice qui, agibola, agibola, gli scappa, a bazienza, per dire, di maniera, piuttosto, quotidiana, e, mette a pià, il famoso legume, a cazzotti, e cosa ne esce, di sicuro, di, azzobuzza, posto, che dice, una gibola, dunque, c'è una ridibilizzazione, di ciò, che dice, sagralizzato, eri, e torna qui, un'orientazione, igunoglastica, che dice, piada, di maniera, tiara. Bisogna capire, che i desanti, non concepisce mica, la lingua gorsa, la gorsitudine, l'identità in generale, come simboli, d'angoscia, medavisica, o come strumenti, qualunque, di subversione, a un contrario, i consideri, di abbiotto, come una sorgente, igreazione, e di biege. Riconosce, è lo stesso, d'altronde, e quasi, di maniera, paradossale, che, a dravaliera, sugiale, di ugorso, di, e di stato, e di sempre, in tutti i casi berello, un mezzo, di stimolazione, pudente, e l'imaginario, di scrittori, odinchi, dunque, di maniera, paradossale, a un così, a gorsuvoni, a lingua gorsa, di, un bambamica, droppu, e di lagosi, a livello, liderario, malgrado, e malgrado, dutto, a indienado, una mossa, di griazione, di, un poco, ugustato, che l'uva, se l'ucelli, a risa, bec, ridiga, desanti, si ne serve, anku, e sobratutto, dunque, befa, obera, di griazione, fage, ghiazo, lideratura, come quella, di gomidi, un è solo, disidentitario, o, anti-identitario, manku, ludiga, edunistica, ludiga, u, iogu, edunistica, u, biege, in tutti i casi, a lideratura, ideologica, in questa, l'emogabida, un è più, appientato, si, bo, di, di, essere, lideratura, ideologica, per essere, soladimente, lideratura, in senso, di, creazione, e, desanti, di, uno, sicuramente, l'incarne, di, obiù, questo scambiamento, i paradigmi. Allora, non ci sarà, mica, non ci sarà, tanto da, stunassine, che, 2000, cresce, più che mai, a brama, d'abertura, che, avevamo, intravisto, con 90, il fenomeno, di, dilugalizzazione, di scenari, intravisto, di, con 90, semplificata, in modo netto. Allora, i loghi, non ci ne sa, torna, non ha giurigacciato, qualche uno, da a Vigilia, all'Inglidera, passendo, a giangla, di Nova Guinea, o Brasile, o gli Stati Uniti, l'esempio, non manca, non ha, torna, di un listino, che, se, boirebbe, allargà, assai di più, e l'originalità, che, l'oggi, di, in pareti, gasi, come, di un intolato, gli Stati Uniti, pensando a ferrari, fin tanto, che l'erba, crescerà, fin tanto, che l'erba, crescerà, bon, io, quando l'adioletto, sono stato quasi, spaisato, colpito, perché, pensavo, che è aumentato, che sarebbe una rivarenza, a Corsica, in Cine, a nessun momento, di un romanzo americano, scritto in corso, perché, e, beh, che ci siamo abetti, a un po' questa logica, corso, centrada, in lideratura, e qui, abbiamo un esempio, di una lideratura, che, che è proprio, una lideratura, internazionale, pura, scritta, in corso, in un solco, drecciato, da un disegno, anteriore, a lingua, adubrada, dall'audore, continuedia, di scioliesi, piendo, più che mai, l'abbio, di un blurilinguismo, continuedia, di scioliesi, ma la dica, c'è sempre, quest'idea, di, d'amplificazione, di continuità, a petta, un 90, ciò che, noi, diciamo, durante l'introido, una scelta, gradiva, e astuta, quella, di un blurilinguismo, che saluntaneggia, a tempo, da un monologismo, ideologico, bala di, una lingua, un'identità, si esce, di sta logica, qui, che saluntaneggia, da, superfigialità, di un blurismo, e, di nuovo, per parlare, in termini, più, istituzionali, da, sotto, missione, di, abberiveria, au, gentro, posto, gli, laudori, continuedia, malgrado, tutto, a scrivere, in corso, che lo sia, considerato, un espudigo, o no, continuedia, di scrivere, in corso, un sassimile, di, a nomica, mentre, che lo sassume, sempre di più, una certa, influenza, o presenza, di un francese, in un'altra lingua gorsa, laudori, metteno, a questione, di, a lingua, o di, a lingua, rinuada, a un centro, di, esobrimure, appudiendosi, in un'altra, doppia cultura, di, gorsi, in un'altra, logica, di, un bislinguismo, Paolo, desanti, trasformerà, di, adiglossia, in forza, griadrige, inserendo, spesso, citazione, sane, zone, in francese. ciò che l'uva, c'è per esempio, in Diason Will, l'anada di, Ido Morti, c'è, di, rigacciato, anche qui, parete, agitazione, mi pare di, sendrars, che sono, ridrasscritte, tale e quale, balla di in francese, ma allo stesso tempo, chi interessa, gisaria, odia, per un lettore, gorsovano, che dì, a tempo, a cabo, di, a lingua francese, di, trao, gesi versi qui. Dunque, l'uva, gemica, e inserisce, piuttosto, il plurilinguisimo, e ne vage, torna, è una voce di creazione. Desante, in certi casi, un rinunciamento, a inserire, pezzi, sta urta di spagnolo, allora, sempre, in Diason Will, l'anada di, Ido Morti, che dì, un esempio, un po' di, quest'orientazione, plurilingue, che l'ubile. Un esempio, che dì, è divigente, di quello di, un romanzo, il VIIe ciel, di Diago Mudier, 2007, pe, a data, che si può considerare, come un autentico, esercizio di stile, a tempo linguistico, soggio linguistico. Allora, ci ritroiamo, a Bouladio, corso quotidiano, tinto di gallegisimi, o corso in cese, l'appellazione, francese accademico, francese regionale, igorsica, o francorso, linguaggio, SMS, liado a, a gioventù, piuttosto, ci ritroiamo, di noi, italiano, incursido, eccetera, eccetera, una varietà, di lingua, o di lingue, tamanta, che si vuole, infatti, un specchio, di a pluralità linguistica, culturale, e, infatti, a fine identitaria, di igorsi, con l'idea, a tempo di ricchezza, e a tempo di difficoltà, di noi, a formare un insieme coerente, e a disegnare un progetto da bene, come va, a mezzo a tanta ricchezza, a mezzo a tanta diversità, a riesce, finalmente, a intravedere, un domani, così di, o penso di dire, un po' un inquestionamento, che lo si vage, che lo sbuggi in edia, l'odore, in desetiem siela. In quanto a un teatro di Dier, abbiamo visto, che l'era, strutturalmente, plurilingue, durante un'ananta, attraversa i bruggetti, giustamente, plurilingui, Itaga, Itaga e Ciclopo, qui si continua edia, anche se lo avage, di maniera più personale, di un teatro, che è sempre plurilingue, che c'è da esplorare, sta urte all'immaginario, mei d'erraneo, e c'è da rilegge di noi, ma di maniera gridica, a storia corsa, ma sempre, dunque, questa logica, di un blurilinguisimo, che caratterizzate, di una nuova espressione, leaderaria corsa. Il più radigale, Marco Biancarelli, privilegiando il realismo, e rigusendo ogni mido, liato alla nazionalità corsa, ha seguito, direttamente, con la concepidura, purista, di una lingua, una concepidura, ereditata, a tempo, di un mantenimento, di noi, ereditata, di un riacquisto, in una certa misura, allora, di un rigacciato, un piccolo strato, di una dura, medalinguistica, da, un romanzo 51, Pegasi Astro Virtuali, per mostrare appena, l'abusizione, di l'odore, non l'oggetto lingua, che di un'abusizione, abbastanza nuova, e abbastanza, iconoglastica, a capo di un tempo, ben a di, dopo due minuti, c'eramo impadroniti, di un contoare, o anche, di c'è riaudizionario, ma di questo punto, è una maniera, di rendere pertinente, l'impresto, l'impresto linguistico, e l'impresto, anche, cusciente, ma ramentiamo, l'uomo di, insegnante di lingua, e di cultura gorsa, dunque, è avagia, di maniera, cusciente, rivindicata, da bulintaria, una maniera, di noi, di rendere, inuberante, o burisimo, senza bientà, di va, lideratura. Concernando, la lingua, di Biancarilli, di una lingua, che di è, stazzonata, in dea violenza, e in deo pessimismo, e, che, a livello più formale, si dindia, di galigisimi, di neologisimi, e di impresti, molteplici, da bruga, e, in fattavine, rigusa, ogni dipu, di sagralizzazione, si puerebbe, di boasi, ogni dipu, da reigire. In certe occasioni, per esempio, penso, a ragoltà, prigionieri, anche, l'inglese, passate, udaliano, anche, misi, bare, e, dunque, le lingue, che, li, diserveno, puntualamente, da rembo. Una posizione, che, l'ubare, ufficializza, torna, in dea nuvilla, e, a wali, di una nuvilla, di a ragoltà, prigionieri, di no, misi, bare, attraversa, i baroli, di un narratore, che, infatti, un narratore, a udore, di tra l'ugente, che, di, e, l'ughi, parla, si, neologisimi, tutti, si, barulacci, tutti, si, strutturi, gufindiano, u dialetto, daghion, li, di, niu, bar me, accubendumi, di, giochi, misericorda, quale, ero, infini, dall'alto, di, i miei, drent'anni, pacura, impresso, a ciò, chi, ferma, e, devi, firmare, affare, di, spigialisti. Realisto, anzidutto, l'usogorso diventa un modo d'espressione qualunque a mezzo all'altri e mica una lingua purificata dall'ideologia, bala di, in una certa misura, suniada. Parlamo prima di a zuberficialità di u burisimo, pur usale creazione lideraria, ma a tempo ghi saluntane di abbastanza di u realisimo e di u quotidiano. Un'altra ovronte, quello di l'abertura bulinomica interna, si riabre, dunque si riabre, sempre a famosa continuità tra 90 e 2000, kundi a Maria Gomidi. Prima abertura a 96, la formula è di Alano di Melio, bala di ananta sobrubbia, complessità, su fenomeno di u burinomisimo, si manifesteria in deo scrittore univazinco, attraversa u basse bene il libero tra barieda sobranaccia e sottanaccia di u gorsu. Allora, c'è qualche novella dell'usisprime così, c'è soprattutto il romanzo si esprime in sottanaccio. Allora, torna a guia di un rigacciato illustrato, vende orte l'illustrazione, balano di più, che parole, dunque mi permetto, a donna sbutò a piendie e parì a bronta a benesimeno, a pressione di radruppo vorte. Tanto, Cordiglione legise di aspettare l'indomone, per continuare l'intrattenimento, e fece accompagnare l'isa benedire in da sobrubbietà in bordi mare. Ci vuole a mettersi a sobrubbietà quantunque, veda un marito che si fa a sbattare in queste condizioni, si capisce che da tanti bisogno ed è salagata in Santa Baci, o fido l'ugaro, l'ho arriva il tempo di interrogarla. Dunque, è una specie di oggi che pare quasi un'avvenzione, che infatti è un'avvenzione, mi scuso di un po' di spoiler, come lo si dice, ma che serve ad arrivare a una certa distanziazione, di una dimensione piuttosto comica, in tutti i casi piacevole all'insieme. Dunque, è un fenomeno che si sfrutta di un narrativamento, quello di abolinomia. Il plurilinguismo è librido, non è da miga da di glousia, ma da è di glousia, è quella di odia, è quella di eri di noi. Si generalizzate, è un'avvenzione in liderazion, è un'avvenzione monolingue, il scrittore gorsovano abandone, ad obrobbià esiguità, ma parola di Edi François Pare, da grea, sta urt agume Edouard Glissant e penso a uso pensamento di l'Arcibellagou, è condizione di azo esiguità, e di azo contiguità, dunque a surtida. Dall'esiguità, verso a contiguità, ed è torna una vormula, un articolo di Alano di Melio, con stiguità di drabassamento, che si vede in parte a livello linguistico, a livello di scrittura. Il spazio madrigale, a scrittore, che viene di glissà, un spazio carribeano, creolizzato e mondializzato, diventa dunque, per il scrittore gorsovano, un spazio italo-romanico, un spazio meideraneo e un spazio transnazionale, che si pone come auspettio di ciò che si vorrebbe diamare, per ripiare appena a glissà, un po' l'identità risomu, l'identità risomu come alternativa a tempo all'identità radiga e a tempo all'baradigmo, si può dire, totalitario di un Stato nazionale, dunque è un'alternativa no agli spunti in scrittura. In la sua regolta di Gronaghe liderarizzate Logi Mondo 2011, Di Melio presenta una geografia storica che si vonde all'interazione con l'altro igieno e con l'altro, da Rilia, dunque secondo esa parola, un logo a un mondo e un mondo a un logo. Un logo pieno di una gorsitudine aberta, nudrida fondamentalmente e quasi paradossalmente d'alterità, come quello logo mondo medavorico di Univazio, ma senza di mai l'alterazione di puro aberta e l'umanista, l'identità, ferma incepata e un sede mica confonde non più con il cittadinismo di un mondo. Un progetto positivo di alterizzazione e di universalizzazione di un luogo che suggelleggia in tutti i casi il passaggio da un'identità tiosa eriativa, si potrebbe dire un'ipseida, a una pluriidentità aberta e creativa rispetto di un'identità personale complessa, quella di laudore che dice un'identità situata tra corsi di Udine, ma di noi mediterraneità e umanità. Di ciò che lo sviluppe di maniera forse anche di più tralugente in deras regolta buidica Sintimi di Sponda 2015. Allora, in deras Sintimi di Sponda c'è l'idea appena si potrebbe pensare a Madina di dirti concentrichi l'audore in deras regolta sbuggi inedio tutta la geografia simbolica che lo è costruito lunga la sua vita attraverso le esperienze personali professionali eccetera eccetera e a regolta di proprio un biadio fa che si parte dal Maghreb si biadia verso la Spagna l'isola di Malta è la sua lingua mistiada la sua lingua simbolica che pare un poco rispettia e due Sponda di un Mediterraneo dopo andiamo verso l'usuto di Avrancia a Sardegna e oca di Bonivazio di un di Milio di un luogo unico abbiamo parlato con 90 di inter Sponda dunque indello e oca di Bonivazio di un luogo unico e ben sicuro di un biadio qui si compie go a gorsiga cu a poesia solo l'isola e presentato come un luogo beato un poco di l'ultima frontiera un poco con l'idea di un'utopia un'utopia che è appena rimessa in causa con l'ultimo boema che dimostra l'odore un sogno un sogno di amica non più l'idea di senti mi disponda di d'appresa me l'idea di continuità geografica culturale e umana di un'idea che è abbastanza balesa e che è buzza da gusti di ciò che lo diamo l'odore a glugalizzazione allora cosa vuole dire un neologismo che cerca di conciliare a tempo e globale o a globalizzazione o a mondializzazione e di un poco pareme una concredizzazione di un aforismo di miguel torga l'antara baggida che lo bo ave l'universalizzazione culturalmente le moda ribida l'ave un mintulado mi bar che dira abri mas tonda l'universel c'è le local moins le mur ou c'è le local or le mur secondo l'ade ottavi rivendicati la simplicità di azolacida paesana e rigusa ogni costruzione identitaria che sare avondata non 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 la logica di un ridietto dell'altro e fino a malfiarsi appena come desanti di un famoso leitmotiv dell'identità che dì un po' leitmotiv riacquistadio per eccellenza in lingua veria consagrata posprime sta in tutti i casi pos suscita sta rivlessione in gira anuzione di vero allora l'esempio mancano mica gen d'astri continuiamo un po' da vi rivigà forse a pertinenza di libodesi ma senza un catalogo di seguro a rivolta di spermatozoido sta orta a ragolta mica annuela a certa madurazione di un brugesso a tempo liderario e ontologico di rivolessività di us scrive u dittigo centrale gumposto da annuelle bel diogo e post fazio di proprio ed vigente rigurando a medavincione storiografica di a riscritura di a storia di un liderario che assume una storia riscrita dunque rigurando a medavincione storiografica e manidiendo fontes liderarie storiche autentiche ma con scopo d'ingana desanti rende un omaggio apudiado a abudenza e reazione di lideratura face che lo si tratta di un bel diogo come il titolo di asano il cabage insomma di rendere l'impossibile e più diversa il personaggio di bogeux che è un personaggio inventato che capiremo avviene dice all'inizio di abrima da da barola berida sordi un fiume indelasi svanisce a memoria un un antra novella che secondo me sviluppe di ador na studema di anuzione di verida o piuttosto di difficoltà a abindia verida di annui l'autobiografia di un biografo che si bocca bi come una dimostrazione giustamente in vivo di impossibilità di boe cabì o senso di boe cabì o vero ecco a conclusione di l'audore piatto tarida un aradore una biografia un equipa svilò o musciò si tratta solo di circunvenne i limiti di una persona abindinti liburi che ferma avina osino pisticcioli faccia a verità a ubiù a umeiù so pisticcioli ma un è mica un'annuzione e diseguro c'è una rompidura palesa guà lideratura realista guà lideratura detta attesi di lebige anteriore anche quella di uri acquisto se non vole muva baragone guà gorsi si torna qui inda un'altra logica lideraria giunto all'edà di avetiaia o biografo dunque rivengo a monuilla palesia ghiazò berazona estada solo bugia e falsificazione ma si ralegra d'avere possuto campare uita di i personaggi consigliando anche a isolatori di interrogarsi appena non t'ausenso di a esistenza dibetto alla fabulazione un po firmato che ho dubito e a bu letru aver ridato tutti i batti si finisce anche be pià i baesi il famoso dema di cimizia che avevamo già intravisto con 90 di rivene penso a noella luca e e sempre di a rigolta di sperma dozoido e sempre di paolo de santi bugia dubito e cimizia ecco dunque tre risposte post moerne alla solidizzazione di un principio di razionalità che l'audore consider falso falso come l'univogità o come un monologismo ideologico so concebidure liderarie che lo rigusa torna ad esanti e forse l'esempio più edivigente e più rigente in più dell'attualità di un romanzo Bae Fatilidia esciuto in 2015 e di un romanzo che si vuole un autentico esercizio di medavincione allora medavincione di in lideratura uscobo a volontà affissata palesa di l'audore di sciapare l'illusione lideraria paradiche l'audore un bolemica va creer ausolettore dicio che lo conta di ero qui desanti ci va gegabì subito subito che lo giganta una vola di maniera assunta allora all'inizio di di un romanzo c'è una scena in dell'uvaggio a descrizione di un scagno dell'eroe o piuttosto dell'anti-eroe perché i romanzi post-muerni non non eroi ma anti-eroe e un scagno dunque di chiedi di un dispettore piuttosto fiascato con un inchiesta che non sbucer amica ad tutte maniere e ci dice l'audore ci dice un aradore ma infine l'audore l'apsus perché c'è proprio a maniera di concebire la literatura ambio più parodico uncinera dunque sassume che non siamo un de una barodia c'è veramente una quantità importante di gigantazione n'ha giubbiato un'altra che c'è forse un di più chiara e che c'è un po' il gol di questo fenomeno di abarodizzazione ironica o di medavizione dice a avviene un personaggio io ai voli non ci credo dunque siamo proprio una lideratura d'immaginazione d'invenzione di criazione manca appena una lideratura che cerca di tramandare una verità o un'ideologia particolare una rimessa causa dunque d'arilia ben sicuro all'estitica post-moverna e l'idolo sconciato di l'obra d'altronde accerta questa posizione gui perché c'era sapere che l'audore prima di scegliere l'idolo gui pensava di diamo un romanzo programma insurrezionale dunque è un rigoso di tutte le norme di tutte convenzioni anche all'ivel di 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 lideratura di maniera generale rilegendo in secondo piano amminorazione culturale e iso affanni privilegendo l'immaginazione e avida si bodì che Paolo des anti incarnè di un ululore post-diglossico di la lideratura di espressione gorsa quella che oramai sciappa ogni bastò di aver fabalé la libertà sana sana di un lideratore demiurgo un antra vi ora diciamo prima rappresentativa assai di il rinnovo di 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 Diago Mudiere un verso di carnavalesco sicuramente ma sempre in leia con un romanzo contemporaneo dunque è goherentza dunque d'insieme in indiettiera a rimessa in causa di annusione di ero di anzidutto sinonima di città terabeutica in Corea Astoria e all'identità ferida l'identità corsa di siguro da Burtazzo rivelessione si serve in del romanzo judiziario in Corpa Bastia 2003 di progetimenti frammentari che sono caratteristiche di un romanzo contemporaneo parliamo qui di avorma dunque allora l'audore per esempio scrive un romanzo che è un romanzo polivonico dunque sarà un invariante di di aso scrittura si serve di una temporalità che è frastornata abbiamo parlato di distorsione temporale in lideratura modernista o post moderna si parla di distorsione temporale si serve di un progetimento di collage intertextuale eccetera eccetera dunque a livello formale di una scrittura che è proprio contemporanea di un affare che colpisce a livello di storia conta un mistero iniziale di un corpa bastia si bodic che si scioglie ma di manera appena ambigua posto che ha verità tra virgolette bene da un personaggio attraversa ciò che pare un sogno un sogno pudenziale posto che è un uomo gilè legge dunque c'è un'esitazione di noi per un lettore a dire che sa verità che gli viene presentata sarebbe una verità sicura una verità assoluta c'è sempre una nozione di dubito di 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 in più c'è una piccola dimensione fantastica in certi bassi dunque è che bene appena ha arrivato di questa dimensione di dubito all'insieme più che risposte vate c'è soprattutto c'è che allargando il campo dell'interprete bene noi mette un lettore a contribuzione non fa c'è mica ideologia ma lampa chiave lampa rivelessione ausoletore da quello rivelessione ben sicuro suonendo la costruzione di una bene busidio in un rapporto psicogridico complesso d'amore e a tempo di distanziazione verso il sobobolo che lo scomperte di nuco i personaggi che sono personaggi abbastanza dribulati l'audore è dunque mica un moralisto c'è una differenza importante tra l'usione d'audore e l'usione di moralisto l'audore conosce tutto il peso di deterministi misturichi e un perdemica di vista a difficoltà tamanta dell'intrabreza sa che per curare un po' l'identità ferida per regolare un po' la esurgente dell'identità c'è un fenomeno complesso dunque un damica soluzione fatta e belle un damica soluzione evidente ma abretia si piuttosto e faze lideradura in desto sens un faze mica propaganda un faze mica ideologia die un audore s'idea di 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 da prossimamente il prolungamento di questa riflessione qui, allora attraverso il sguardo di l'Alsaciano Aga da Vuleoni mette in risalto la dualità o la complessità di un discorso gorsi che dice, secondo l'audore, secondo ciò che si può percepire abbastanza ambivalente un discorso fatto da non detti una certa maniera di esse una certa contribuire di l'identità che l'audore cridighe di appurgo affetto ma un sguardo dunque mercato da volontà di distanziazione come ossia da un drama di Walcone a etia Aga da sceglie finalmente abartenza in casa di Ridirada da dove la si vera passa pescema, cuo scopo di smintica o passato e di regustruisce di regustruisce rivelati attraverso l'agitazione i vramenti di un romanzo golognale Vasco di Marc Chadourne Pizzadelli di Erida collano a gallo e finalmente il misterio iniziale pare stiarisce si pian pianino non c'è appena quest'impressione qui ma perché c'è un ma o ero con Teuval su verman o benadura impossibuli a abindie e qui femmo agonessione tra desanti e tier agonclusione tirada da Aga da non t'ai mascare umane senza riesce e la stessa smascherà a Pedro che c'è un po' l'ingannatore di Astoria c'è piuttosto piena di lucidità e corrisponde a giustamente questa sensibilità post-muerna di l'audore o astiaccio un accosto contemporanea di scrittura che gli viene in una certa l'abituale polivonisimo narrativo e isogurulari di a discurdenza e di a complessità interpretativa d'ostri elementi in Deuvalcone l'idea di pluralità o di diversità di luoghi pur quelli esciuti dall'immaginazione posto che c'è assai immaginazione in Deuvalcone a diversità di idempi pareti ebige che simbule e a diversità di lingue e sta orta e penso che diagomu di ubrimo a facuè cu l'introduzione puntuale di l'alemano dunque sebole di Deuvalcone puire delidie pizzadili di tedesco non ta certi bassi in lei a guastoria e di sicuro cu a guerra mondiale c'è questa tensione con il passato avviene di un romanzo verma aberta cu scopo di rispetta adigeamo tutta complessità complessità di avida di l'uomo di uero e finalmente una complessità che solo a lideratura può illustrare proendo a cura a grisa corsa assumendo in realtà di o tempo brisente da disagrealizzazione ironica di l'identità o famoso leitmotiv di o riacquisto sin all'impiego scomplessato di o blurilinguisimo come risposta adiglossia ecco che o scrivano si mette a investire ognuno dei godici di un romanzo moderno un romanzo che è portato allo stesso dall'idea di grisa e di morte post moderno di un soggetto psicologico unificato di che la psicologia facile è risposta pronte fatte belle ideologiche in questa lideratura post moderno contemporanea un spontanomica perché a vita è complessa perché non c'è mica una verità ma si è l'uva verità quanto l'uva è l'uva e laudore di un po' udra scrittore di questa complessità strutturale di un mondo un mimetismo assinato un poco sta concordenza tra lideratura contemporanea mondiale e lideratura gorsa che benevisezia proprio a lideratura gorsovona una lideratura bramosa di rompe definitivamente con con miserabilismo provincialista e con l'esaltazione senza vreno di eri dunque è un'altra via una terza via di piada e una lideratura moderna bramosa finalmente di esce criadiamente di agriza identitaria segularia si potete al di là di lideratura di un bobolo corso è sicuramente attraverso la scuola di un disincanto che l'esprime il più spedagolarmente sul fenomeno di ribensamento identitario allora un disincanto di un'appellazione che ci viene dall'anno di Milio mi pare come mantenimento di la via inventata credo di gira il disincanto penso che di Alain dessa lideratura di disincanto spiccano un po' edunalità di un'errore di l'assenza di perspettive che sottramendo il lì ad una situazione sugiale pessima che die infatti denunciata con una certa ferugida a bohemudi e che die lontano abbastanza lontano da o vitalisimo che dicevamo prima per desanti per tier per comidi per dimilio dunque c'è una differenza tra la udore che avevamo amintado in la venta e sa scola sa dindenza sa categoria detta di o disincanto capivilla di movimento Marco Biancarelli devinisce come espressione gullettiva e spontanea di spruvundamento di una sugedà elu dice us fraio quando lo parla di a scuola literaria dice us fraio Norber Paganelli nensu che diverge u vragasso da a sta nua percezione affanada e disinganada di un mondo ce corpus de valeurs a cimenté notre identité en lui permettant de générer ses propres anticorps et ainsi de lui assurer une certaine permanence dans le temps ce corpus a volé en éclats ou plutôt il s'est dissous avec l'avènement de la société post-industrielle disons-le brutalement il n'existe plus aujourd'hui s'il s'était agi d'un effondrement nous en aurions entendu le bruit il nous aurait surpris et peut-être aurions nous réagi à temps mais non il s'est dissous comme neige fond au soleil sans bruit et on devrait plutôt le désigner par le terme corse de strout une définition qui corresponde à l'idée de mort et de l'indivérance qui est développée à travers les gabines et les vénales du romant du mort et le mort qui est un peu l'objet de l'avènement du désignement à travers la mort de l'oride du baston Mansuedo qui est le stesse un peu l'ultima ouïstiga de la civilisation pré-capitaliste et donc de l'air et de l'industrie pour les idées en fait il y a un monde qui est un monde qui est disparu et qui est ingoulé dans la modernité avec des fumateurs entre elles et de l'étude les huérges biancari les jurexèques l'acqua viva et autres les ferales font une scèlte plus ou moins scabrosa et rassegnée de palisir l'extensione culturale si remarque d'altronde que à une réalité du désincant à certaines occasions si va à l'esprit et encore au-delà des limites présentes nous avons parlé par exemple d'Annouilla à Zerva d'Ottavi qui mettait une lideratour à mort si baudit simbolique du basse de l'esprit un emblème culturale un emblème réacquistage fra l'autre importante dans la verre de Amaona si va à l'esprit entre le passé historique et identité et tragédie dans les images de l'esprit il y a l'esprit par exemple penso à basse d'Uzuchi 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 de l'esprit d'Uzuchi 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 partendo partendo d'Uzuchi 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 de l'esprit d'Uzuchi 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 o d'una certa maniera ha sua responsabilità, dunque è tornato a una rompidura palesa. I famosi cliché e altri simboli romantichi o nazionalità regalisi che non sono messi in pisticcioli. Infatti avviene, malgrado la risa indotta puntualmente dall'ironia e la speranza abbiata sicuramente da ridare un fatalismo di rivolta, saranno soprattutto o malessere a sensazione da fogo e a ribulsione a triunfa. Palisa l'inaceteule, bala di l'infraumanità di un nuovo paradigma gorsu, forse o a speranza abbiata di migliorarlo e cuo progetto irrompidura manco di griazione che l'aborto a scola di o disincanto. Patti e condizioni, quantunque, dagelosia veramente campadò di un progetto che l'oscurità diventa simica budione, bala di strada senza sbocco. A dimensione appena diubiladoria che noi ridruemmo, che è di un elemento forse piuttosto che ci burta verso l'idea di uida. Perché è un elemento forse, se le solo nirore, budione, sicuramente ghi l'estru, se bueran, gustantia, è un elemento forse. Dio, già riflessione govaccio. Igunuglastica, quantè disidentitaria, tralascendo l'ideale comunitario di Eripe a rimessa in questione collettiva e esistenziale, la lideratura dell'anni 2000 marca avviene definitiva dell'infeudazione di un campo liderario a un campo politico in dominio corso. Da risponde all'inugualidarismo di una struttura lideraria mondiale discritta da Pascal Casanova come tutta lidaria, a margine corsa, saudono misedia, infine, arimbendosi le moviste a strategie varie. A rinvenzione di a lingua, aberta sempre di più a l'ibridazione, corrisponde a una rama di contemporaneità e di realismo in du rispetto di noi, di alledibilità e di un livello di competenza, di un letturato. Bala di che c'è una certa logidità di noi, apetta al pubblico. Di è, sa strategia qui, ciò che la diamo, o stuve, non menù qui, ciò che la diamo a Lisgovin a domestigazione di Babel presa in conto funzionale di un blurilinguisimo, linguistico, di a sugedà diglossica. Dunque, a domesticazione di Babel, a domesticazione di a pluralità linguistica. Bala di che il scrittore Odinco non si indirizia più a una certa categoria di isoi, ma, al contrario, a tutti isoi, e torna di maniera luggida, in tutti i casi a Zibroa. Così, Fendu diventa un drascrittore di a complessità culturale, di uso del territorio multilingue e, come dire, penseremo a Tierra. E, abbiamo visto, che s'andava anche di più lontano, in certi casi, con il fenomeno di God Switching, il fenomeno di scambiamento di lingua attraverso la presa in conto di a diversità linguistica mondiale. Abbiamo visto l'inglese, il spagnolo, il tedesco, tutto quello di roba nuova, l'idea nuova, appena a un tempo lungo di a costruzione storica, di sicuro. In più di a lingua rinuata, o di a lingua ribensata, o di a lingua rinventata, abbiamo detto, si cerca di sorte dell'isolamento via un fenomeno, dunque, di l'abertura culturale che smonta la concepidura monolidica dell'identità, una, tra virgolette, sconfinata, un'abertura di un fine, una sconfinata che si vage aperte dal bulinomismo interno prima di allargarsi al spazio, abbiamo detto, italo-rumanico, all'insembio meideraneo e, al di là, abbiamo parlato di un'eboche di Bruggetti, ci si arriva su domintola, anche, ma, qui viene così in capo, a ragolta, per esempio, di poesie, biha di boe, di ghi, che tiene una ragolta proprio di poesie straniere, che sono traute in corso, o a logica di su continuo mediterraneo. Dunque, l'idea di l'abertura di gonfini, o di a sconfinata, da pedì, la così. A traduzione, risorsa preziosa, un ben emica adubrada quando è losidrata di scritti Madalenini o Galloresi. E qui, penso a un romanzo, un romanzo, piuttosto, bea gioentù, dragut un gursaro d'urco, di un Madalenino Giancarlo tu, che è un emica trauto in corso, c'è qualche muivica ortografica, qualche accontamento che ti è fatto, ma un emica trauto ti è lasciato tale quale in Madalenino, posto che lui ha abbastanza gabisci d'odio e che lui gesta la volontà di marcar, di materializzare l'idea di un spazio che ti è, infatti, una continuità geografica e culturale in deo spirito di sintimi di sponda. Si regusa dunque a tempo a visione intradialettale di Osa e di noi l'idea sterna di frontiere nazionale che sariano ermediche. L'idea di Uvranca diventa un autentico leitmotiv per l'audore di espressione gursa. Franca a beura di amorta, Franca e ripresentazione, Franca la bene eccetera eccetera sino a Franca direttamente e vrontire. Dunque è un fenomeno di l'abertura e un fenomeno corollario di Uvranca. Ma e qui è arrivato perché è importante senza perdere l'idea di spazio vigita. Una scelta finalmente anche ingaggiata sommo gibensa posto che in una certa maniera si mette a gursuvonia un po' a mezzo e si bo di a parida a petua diversità mondiale. Dunque un si bo mica di che l'usipi un atto qualunque non più di un ingaggiamento vorsi un ingaggiamento altru. Si bo erebbe vacui o baragone go scrittori di Avranco Vunia che inventano anche le bi particolare per reche di l'isolamento. O martinigese Edouard Glissant divinisce così i gonzetti di tutto mondo di archipelità e di diversità L'essenza di un mondo sarebbe diversità culturale e un mondo odinco sarebbe un mondo creolizzato arricchido positivamente da differenza culturale L'universalità tanto non è più quella centrale non dai gentri ma quella riconciliata quella d'udalità di un mondo Noi abbiamo questa doppia strategia doppia perché a tempo dice la regola e l'abertura al spazio mondo è una strategia che ha permesso di riconosce i cosiddetti poedi di agriolità da Parigi Dunque finalmente c'è un po' la dimostrazione che l'osibbo di noi continua di esiste di mantenere la specie vigita e c'è riconosce da un'astituzione che l'emodetta fa c'è mica sentiment c'è un'astituzione inuguale e hierarchizzata l'astituzione e lideratura pur con qualche compromesso ma l'emodetta c'è una struttura che è un'emica ugual lidarria struttura lideraria si agum l'Asia fa balè a differenza linguistica e anche di più a di ugulezza in seno a una rende lingua lideraria costituisce senza dubbio una rivoluzione a livello più testuale si brucede all'importazione e all'adattazione di un padrimonio liderario transnazionale diccio che la diama casanova la captazione di deritage nostri studenti la captazione di deritage bian fendo di spazio mondiale usano spazio di rivarenza laudori metteno a distanza i movili nazionali passati per valorizzare l'agriazione scritta la libertà e l'obietà segno sicuro di madurità nuova segno in tutti i casi di rompidura pientano di esse scrittori nazionali per diventare scrittori internazionali ma senza rinigarsi cua speranza abbiata di ottenere forze agon sacrazione al di là di esovruntiere ecco giunti in modo abbastanza diaro cibare a udermine di un strubrugesso segolario dell'aburazione ma e adigiamo per un anta accanto ad estualità e a soverità immanente all'indrento di udesto all'ideratura di anco è forse soprattutto una pratica sogiale istituzionale un mondo articolato in giro a isogentri e poco primuroso di esobru ince o confini un mondo dell'aspica l'idea di strategia di lota un po' bea sobravida o scrittore dominato cuscente di l'inugualità di sistema da due l'usimo dev'era così sbuggina la strategia di recor e du det tur l'isgo da accede all'esistenza sogiale allora aspettando qualche miglioramento a livello sociolinguistico che a sorte di a lideratura gorsa di liada di un'evidenza ma di badidilla di liada anche a sorte di a lingua gorsa ramintemo sa chifra appena spaventosa di tre pecento di tramandira di ugo su inseno a evamille una chifra che fa rivlite ma intanto aspettando e bramendo su rinou un etanto dubidoso che a strategia per ribia barola di l'isgo di l'abertura vinalamente sia di gwe le cri di iwe e saludi vare ecco rido scuso adio drigado abo atempo anodoyo regume dunque ne boss provita anodoyo